Amici di Milan.soccer, buongiorno, 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 un'altra settimana rossonera inizia, beh, però abbiamo anche delle buone notizie, quindi tra pochissimo inizieremo, prima lasciatemi ricordare, come sempre, beh, l'iscrizione al canale è qui sotto, semplice, gratuita, un like a questo video e l'attivazione della campanella. Grazie a tutti coloro che lo faranno e che stanno facendo crescere questo canale. Vi ricordo inoltre di guardare più in basso, link in descrizione, il nostro partner, un sito per poter scaricare musica copyright free. Eh sì, avete sentito bene, poter scaricare musica copyright free. Chi approfitta del link che ho messo in descrizione avrà uno sconto importante del 45%, sì, 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 è passato un po' sotto traccia, un po' troppo sotto traccia, ma noi ieri ci abbiamo dedicato anche un video il, diciamo così, l'atteggiamento di Ibrahimovic. Ora, attenzione, attenzione, perché a volte col fuoco ci si può bruciare. Ibrahimovic innanzitutto lasciatemi dire che quando è stato inquadrato in tribuna l'altro giorno, l'altra sera, durante Milan-Torino, beh, non aveva proprio uno sguardo così gaudente, così allegro, così spensierato come fino a qualche ora prima. e poi, forse anche un po' ingenuamente, ma a noi sta bene così, ora vi spiego anche perché, si è assunto una responsabilità importante. Lui, non so quanti di voi hanno avuto l'esperienza di dirigente d'azienda. Io ho avuto questa fortuna e vi posso garantire, vi posso garantire che ci sono persone che fanno e persone che sono in attesa che chi fa cada. E allora le persone che fanno sanno che possono cadere, ma fanno perché guadagnano bene, perché è stato chiesto loro di fare questo e soprattutto perché non è il motivo per cui non è chiamato lì. L'atteggiamento di alcuni altri, non voglio citarli, ma l'avete capito, troppo intelligenti, quelli che frequentano questo canale, beh, è proprio questo. Aspettano che il gigante cada. Ibrahimovic però, anche perché si sente, diciamocelo francamente, non dico fuori ruolo, però non è il dio Ibra. E lui pensa che anche nel mondo della dirigenza funzioni così, non funziona così. Però lui è ancora in quella fase embrionale e infatti dice qui comando io. E il fatto di aver detto qui comando io è stato ingenuo perché? Perché sia assunto tutte le responsabilità di tutto ciò che andrà a succedere. È chiaro che il successo, lo sappiamo, è un'eccezione. Perché? Perché su tot squadre, 20 squadre, una vince in Italia. Per non parlare all'estero, non sono 20 squadre, sono molte di più. Cioè vincere è un evento straordinario. Noi tifosi vogliamo vincere sempre, ma sappiamo che la vittoria è un evento straordinario. E allora si è assunto questa responsabilità. E per questo io devo dire grazie a Ibrahimovic. Sicuramente è un atteggiamento ingenuo, io ne sono convinto di questo. E è un atteggiamento, appunto come dicevo prima, che richiama molto alla nostalgia del campo, dove lì era veramente uno che poteva dire sono il numero uno e poi lo metteva in pratica. Di qua ho paura che qualcuno appunto aspetti che cada. Però noi siamo qui a dire se cade Ibra cadete anche voi, anche gli altri cadono. Non pensiate che sia un'azienda come tutte le altre, il calcio, e in particolare il Milan che è religione laica. Quindi Ibrahimovic, Ibrahimovic, noi in questo momento lo dobbiamo sostenere come sosteniamo tutto il Milan perché vogliamo vincere. Lui dice, ed è questo a cui mi rivolgo, il fatto è questo, il calcio mercato finisce quando lo decido io. È una frase straordinaria. Perché? Perché da un lato ci dice, io voglio ancora di acquistare qualcuno. Perché sicuramente un po' è rimasto preoccupato l'altra sera. Il primo tempo lasciamo perdere il pareggio. Ma chi è onesto intellettualmente poi lasciamo perdere anche quelli che pensano che una critica sia un atto di non amore. È il troppo voler bene a qualcuno che ci porta a criticare quel qualcuno o in questo caso la squadra. Chi invece pensa che vada tutto bene non fa il bene della squadra. Ma sicuramente se non ci fosse stato il tifo l'altra sera, negli ultimi dieci minuti, io non l'ho mai sentito e vi posso garantire che di partite ne ho viste, è anche qualche fischio. Quelli non è che correvano come hanno corso fino alla fine. Ma lasciamo anche questo aspetto da parte. Ibrahimovic dice, ho in serbo un nuovo colpo. E il sesto giorno, il settimo arriverà. E allora abbiamo cercato di fare un identikit di chi potrebbe essere l'uomo che arriverà. E siamo arrivati ad una sintesi di un giocatore, forse due. Allora, il giocatore che in questo momento poi le dinamiche del calcio mercato le conosciamo è più vicino è Manu Coné. Manu Coné ha tutto per diventare il nome forte per il Milan per gli ultimi 13 giorni di mercato. L'appunto alla parola di Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione di Usufo Fana e soprattutto quella dopo la partita del Torino chiarisce un concetto. Con Coné non è solo un'alternativa a Fofana. Coné è un giocatore apprezzato dal Milan e può diventare l'ultimo rinforzo per Fonseca. Quando Ibra parla, parla di un Milan arrivato al sesto giorno di creazione su sette. Il riferimento principale è a lui e non per caso ne ha parlato. Coné, queste le sue parole, lo stiamo seguendo, è cresciuto tanto. Fofana gli chiude un po' lo spazio, ma insomma vedremo. L'altro nome io vi dico che potrebbe essere Rabiù. Lasciamo perdere chiesa, sono ruoli un po' differenti, però lasciamo perdere chiesa. Tanto si è bello che è promesso a quelli dei parametri zero e noi non siamo forti sui parametri zero, ma strizza l'occhio, se vogliamo, a qualcuno che è un po' abituato a strizzare l'occhio ai parametri zero. Per cui noi ci dobbiamo concentrare su questo aspetto. Ora, va bene, va bene tutto perché non abbiamo ancora visto il Milan. Quello non è il Milan di Fonseca e la motivazione che noi abbiamo dato è una motivazione chiara. La federazione deve considerare un campionato a 18 squadre, come ha chiesto il Milan, un campionato a 18 squadre e il campionato non può iniziare il 17 di agosto. Bisogna fare un campionato a 18 squadre perché ci sono Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia, troppe. Quindi troppe partite, iniziano subito dopo l'europeo, quindi quei pochi giorni di distanza da un europeo all'altro. Sono giovani, è vero, guardate Camarda, europeo under 17, europeo under 18, amichevoli estive con il Milan, è rientrato e ha fatto due gol con il Milan under 23, Milan futuro. Sono tante partite, però bisogna saperle equilibrare perché il Milan ha speso e questo gli va riconosciuto, ma non può iniziare il 17 senza Pavlovich, senza Morata perché è stato costretto poi a metterlo perché finiva a 2-0 il primo tempo, 3-0, non lo metteva. Senza Emerson Royal, sappiamo le motivazioni, senza nessuno, Fofanà, senza nessuno dei giocatori, con alcuni che ritornavano dall'europeo, tra questi, Teo Hernandez, ancora affaticati. Ecco, va bene così? Allora cerchiamo di capire quale sarà il Milan del futuro perché è quello che vedremo durante questa stagione. Tranquilli, non è quello del primo tempo con il Torino. Ciao ragazzi!